Sono giorni pieni per chi fa la vendemmia, qui siamo in zona Cavaggio, vicino a Castelluccio. Senta, lei ha quanti ettari in totale? 12 ettari. La regione toscana ha emanato un codice per allerta meteo in questo fine settimana. Dovete fare le corse? Esattamente, qui stiamo raccogliendo a mano perché non si può meccanizzare, ma in altri vigneti ho la macchina che mi sta vendemmiando. E comunque com'è la situazione? La situazione per ora è buona l'uva, è bella, è una buona annata, diciamo, se il tempo lo tiene. Ecco, è proprio questa una delle preoccupazioni, il tempo che è stato magnanimo per il risultato del raccolto, ma è anche preoccupante per il fine settimana. Sì, a quanto dicono le previsioni, il tempo dovrebbe peggiorare, però staremo a vedere. Allora, voi siete una comunità che si dà una mano nel momento in cui c'è da fare la vendemmia, quindi per la mano d'opera riuscite in qualche modo anche a arrangiarvi. I miei genitori erano dieci fratelli, quindi abbiamo una marea di cugini, siamo tutti parenti. E per fortuna l'ho raccattato tutti per darmi la mano perché è emergenza, perché se piove l'uva se ne va. L'Unione fa la forza, sicché andiamo avanti. Com'è quest'uva? Credo sia eccellente quest'anno. Da quanti giorni è che vendemmiate? Una decina di giorni. Che cosa succede se dovesse arrivare maltempo all'uva? C'è il rischio che vada a maciere, però speriamo di no.